La Puglia è una regione che ha dei privilegi geografici, nel senso che è proiettata verso il Mediterraneo da un lato, verso i Balcani dall'altro e potrebbe essere davvero la piattaforma logistica dell'Europa comunitaria verso questi territori. Devo dire che ad oggi gli imprenditori in particolare non hanno utilizzato appieno questo vantaggio. L'iniziativa odierna è in questa direzione, vorrebbe creare le condizioni di favore utilizzando gli strumenti che oggi sono a disposizione, soprattutto delle classi giovanili, della nuova generazione, per far spiccare questo volo. È un'opportunità che noi abbiamo e dobbiamo giocarcela. Il resto del mezzogiorno, che come sappiamo è in ritardo in questi ultimi anni rispetto al resto del Paese, ha bisogno di una Puglia forte, ha bisogno di una Puglia che sappia interpretare questo privilegio, che sappia portarla verso quei Paesi del Nord Africa, verso i Balcani, attraverso una internazionalizzazione moderna, attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Soprattutto le nuove generazioni, ma anche le imprese giovani hanno il ruolo e la responsabilità di guidare questa crescita e di guidare questo percorso. Non può deludere questa regione, ha troppe potenzialità inespresse. A noi questa sfida e noi la accogliamo e la stiamo accogliendo e diciamo che abbiamo motivi di ritenere, malgrado il periodo negativo internazionale, di riuscire in questa impresa che può essere utile, ripeto, a tutto il mezzogiorno, ma anche al Paese.